sui 1500 metri e alla ricomparsa si aprono le gabbie partiti cavalli del premio domie memorial marco rinaldi edizione 2022 costantinus è il più lesto a partire ma alla fine lascia strada baghed che non è particolarmente intenzionato a farsela davanti la prima frazione non è stata veloce la terza posizione occupata all'interno da wings of war che al suo esterno bahia del sol e lascia in quinta o tre tap il gruppo è ben raccolto quando si va a affrontare la prima parte della curva costantinus suo malgrado si è trovato definitivamente in vantaggio baghed si è adeguato in seconda posizione in terza la sua tre quarti troviamo wings of war che lascia in quarta posizione bahia del sol riconoscibile dalla giuba blu e gli inserti arancio a chiudere il gruppo l'altro con la giuba blu o tre tap siamo in dirittura d'arrivo gli ultimi 830 metri della dirittura di capannelle sempre costantinus a dettare il ritmo c'è stata anche un'ulteriore accelerazione qualche problema per baghed che improvvisamente ferma colpo di scena che il favorito ha fermato allora intersezioni delle piste superate in questo momento costantinus in vantaggio nei confronti di bahia del sol che prova a mettergli pressione al suo esterno tra i due c'è anche wings of war ora in quarta posizione o tre tap quando siamo a 300 al traguardo costantinus per ora ha respinto tutti gli attacchi con fare vehemente però si presenta bahia del sol ai suoi fianchi è un duello quando mancano 200 metri al traguardo costantinus di dentro bahia del sol di fuori gli altri che sono out dalla partita ma nel tratto conclusivo bahia del sol accelera e se ne va a vincere il premio domie memorial marco rinaldi secondo posto per costantinus ma qui chiaramente c'è stato un gran colpo di scena che riguardato il grande favorito baghed che non ha completato il percorso è stato rallentato sul finire della curva comunque qui apprezziamo la vittoria di bahia del sol dario vargio in sella terza affermazione in carriera per il figlio di de gurka 4 e 25 la sua quota per il vincente secondo posto per costantinus con il numero 4 3 4 e poi vediamo per il terzo giusto a completare il quadro numero uno o tre tap che forse piega wings of war ma qui c'è una fotografia stretta per il terzo posto vince bahia del sol per il training e i colori di stefano botti è tutto che cosa apprezziamo il corrisco di referendum per la curva di risve i non sono corrisco di ricordare il corrisco di ricordare il corrisco di risve questo avrò di risve fatta per il luogo sarà il corrisco di risve e l'abbiamo Grazie a tutti